...i episodi dei campionati nazionali di prima categoria di atletica leggera che hanno segnato sei primati di categoria eguagliati e uno battuto. Un bel successo che dimostra i progressi conseguiti specialmente nella corsa e le affermazioni dei giovani atleti dell'ultima leva. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS